Salve a tutti voi leader, benvenuti qua da BAS Bene, il venerdì è una giornata scrocchiarella perché si parla di portafogli low cost su future quindi è sempre un low cost che va un po' contestualizzato perché il trading sistematico di base non è proprio low cost sicuramente imparagonabile a forex e altre menate, belinate simili Allora, è la terza volta che registro questo video, portate pazienza, sono un attimino provato Allora, di cosa sto parlando? Se non sapete di cosa sto parlando è un problema perché non mi seguite su YouTube, mi sembra accettabile come cosa, no, certo che no Ogni venerdì costruiamo un portafogli di trading system low cost, è un format nuovo che mi è venuto così d'amblè abbastanza a caso, però piace, mi piace che piaccia, quindi continuiamo Piccolo annuncio per i profili fake e i troll, non rompetemi le scatole Il gruppo, il club, che è il gruppo privato su Facebook di BuzzTrading non accetta certi comportamenti, non accetta certe cose Quindi poi non mi scrivete gentilmente su Messenger perché mi hai buttato fuori È evidente, sei fake, ti butto fuori Non ho tempo per voi Cioè, per favore, grazie Poi mi girano le scatole Non ha senso perdere tempo dietro queste cose Allora, a che punto eravamo rimasti? Avevamo un ES di tipo reversal piccolino, daily, abbastanza crocchiante Poi un NQ, fatto sui 30 minuti se non sbaglio Basato su logiche daily Breakout per diversificare un po' Ora ci tocca l'oro L'oro ha due Perché ovviamente hanno i micro questi qua Quindi il chioccio a mess E il MNQ Sono i contratti mini Che sono grandi un decimo L'oro ha un contratto mini Che è grande un terzo E un contratto micro Che è grande un decimo Questo l'ho tradato ed è tradabile Sempre con average trade decenti E quello da un terzo No Mi dicono che abbia un meno volumi Insomma Mi fido, non l'ho mai controllato Scusate Pensiamo comunque a un decimo Perché è il contratto che poi alla fine ci serve Per fare una roba low cost Fatta a modino Come lo approcciamo l'oro? Ne ho già parlato milioni di volte Basta cercare tre Trading system factory Scritto magari in italiano Cioè correttamente In italiano nel senso correttamente E Se vedete il video Sapete che l'oro risponde bene A logiche breakout E a bias Anche reversal Ho dei sistemi reversal Ma non c'entrano in questo momento Non ne parliamo Oggi potevo decidere se iniziare dal bias O dal breakout Li faremo entrambi Non c'è problema Partiamo dal breakout Che è più semplice Ok Quindi Io ho fatto tutte le cose Che dovevo fare Ho paura di dover Di doverlo rifare Questo Video Non sia mai Bene L'ho preso 1440 Come time frame Per sempre Scusate Scusate Con diversi tipi di ingressi Come si può entrare al breakout Al massimo di ieri Al massimo di settimana In mille modi Ma bisogna testarli Bisogna lavorarli L'ingresso più semplice Sicuramente è questo E per il lato short Cioè se siamo sul daily In generale Hai Della barra precedente Bene Questo ingresso va bene Se lo decidiamo Ok Ma se vogliamo stabilire Quale ingresso è migliore In generale O vogliamo fare uno studio Magari Bisogna lavorare in modo diverso Quindi magari fare così Mettere trigger A input E testare altri ingressi Non so Al massimo della settimana Ok E si ottimizza E si vede Scusate Si ottimizza E si vede Perché Ripeto L'ingresso sicuramente È logico Ma magari qualcuno Vuole fare uno studio Vuole vedere Qual è l'ingresso migliore Vuole fare Delle determinate cose Quindi Secondo me È giusto ottimizzare Da questo punto di vista Noi prendiamo questo Perché quel lavoro Io l'ho già fatto Quindi grazie Ma no grazie Ok Usiamo questo Quali sono le criticità Quali sono le criticità Di un breakout Io direi Filtro E uscite Che sono le criticità In realtà Di qualsiasi sistema Però le uscite Un pochino di più Perché Perché il breakout Non ha un ritorno Verso la media Come reversal Cioè non ha Un'escursione Tipica L'obiettivo del breakout È scappare È il prezzo Che se ne va Oddio Io ho paura di premere Come si fa a stabilire Una misura giusta Appropriata Di allontanamento Del prezzo Dalla media Con le uscite giuste Con le uscite ragionate Una uscita Che vorrei vedere oggi È quella Basata sulla volatilità Cioè Andiamo a prendere Un take profit In base alla volatilità Del momento Quindi è una questione Adattiva È molto intelligente Molto pratica Ha un suo perché Questa uscita Quindi faremo Stop loss E take profit Di volatilità Ha delle controindicazioni Procediamo A me piacerebbe Parlare in modo fluente Anche quando scrivo Il codice Ci sto provando Non ce la faccio In realtà Quindi sopportate Un attimo Scrivo e poi vi spiego Market position Maggiore di zero And Profit Vola Diverso da zero Then sell Next bar At Enterprise Più Che cosa ho scritto Se siamo long E profit Vola E vabbè Adesso vediamo Che cos'è Allora Dal prezzo D'ingresso Io aggiungo Una quantità Di volatilità Come la misuro Questa volatilità La volatilità Si può misurare In milioni Di modi Una Modo Che a me piace Misurare la volatilità E quello semplice Dell'Average True Range Cos'è l'Average True Range Il True Range È il Range Cioè la distanza Tra l'I E l'O Di una barra L'Average True Range È questa distanza Media Degli ultimi Tott giorni Contemplando anche I gap Quindi è una buona Misura di volatilità Si può usare La distanza Tra le bolle Di Jair Ben Si possono usare Quello che si vuole Insomma Il 5 qua Di 5 giorni È da ottimizzare Si Si È da ottimizzare Certo 5 giorni Sono una settimana Rolling Però io ottimizzerei Non esistono Non esistono Non esistono Non esistono I parametri standard Toccare Modificare Ottimizzare Verificare l'intorno Di un parametro Di un indicatore È solo buon senso Chi non vuole cambiare Un parametro standard Sbaglia Mi spiace È così Io so Io so che Dico le cose Poi fate Comunque Come vi pare Giusto È corretto Va bene Sappiate che è un errore Punto Cioè non è che c'è tanto Da discutere Se devo essere sincero Però fate come volete Non ottimizziamo adesso Perché non c'ho tempo Quindi Se Questa volatilità La prendiamo La moltiplichiamo Per un fattore Profit Fola Semplicemente Profit Fola Non sappiamo Se il fattore giusto È 2-300 Va ottimizzato Questa volta Davvero Ok Lo stesso Per lo stop loss Questo Take profit Però È per il long Cioè Dall'entry price Aggiungo qualcosa Bisogna metterlo Per lo short Dall'entry price Tolgo un tot Perché profit Vola diverso da zero Perché così Io ho la possibilità Di caricare il sistema Senza queste uscite Voglio vedere come va Voglio vedere Voglio lavorare solo sull'ingresso Voglio lavorare su altre uscite Non mi devono rompere le scatole Quindi potrei lasciare a zero L'input Ok Adesso facciamo lo stop di vola Che è uguale al contrario Quindi Sono Lo stop ovviamente Lo stop loss Usa ordine stop E il take profit Usa ordine limit Perché Dall'entry price Se sono long Il take profit Lo raggiungo A un certo Livello di prezzo O meglio Che è la definizione Dell'ordine limit Lo stop è contrario Perché il stop di vola Rischia di raggiungere i livelli Cioè non è fisso E a me serve in realtà Un valore fisso Quanto meno per calcolare Position sizing Money management Quindi Io lo metterei E lo lavorerei Magari per ultimo Questo ci può stare Non è un problema Però È comunque da Da valutare Capiremo anche come Oggi Giornata non frizzante Di più Si vede Andai mi esito Di lì Comunque Questo è il sistema Qua l'entrata Queste le uscite Possiamo lavorare Certo non c'è il filtro Ma intanto Cerchiamo di capire Se il sistema È decente Cioè la 3 station Che non sta andando Piano Peggio Ovviamente Trigger non ha più senso Perché non lo stiamo più usando C'era Vabbè Pazzinenza Ok Vediamo cosa diavolo succede Ovviamente ci sono le grafiche di prima Vuol dire che Il sistema base Cioè compro al massimo di ieri Vendo al minimo di ieri Basta Non c'è nient'altro Guadagna Perché sfiora i 160.000 dollari Da quando Io lo dico sempre Il sviluppo dal 2010 Non rompete le scatole Ha avuto Un grosso periodo di plateau Stiamo d'accordo Tra l'altro adesso Lo potete vedere Perché il mio ego È stato messo in basso a destra Perché questo plateau? Perché? Perché c'è sta roba qua? A cosa la potete addurre? Parole così Questo gran ciporro Non lo so E non lo sai neanche tu È importante questo Le cause Sono difficili da trovare Non perché Non si possono riconoscere Ma perché ci sono Una molteplicità di Influenze Tra un fattore e l'altro Che non ti può dare L'informazione definitiva Cioè Le cause potrebbero essere I tassi La macroeconomia Le mille cose Allora tu pensi Potrebbe essere questo Ma in realtà Sono quei 4-5 fattori Che ognuno Dà del suo Per un risultato finale Quindi Per questo tipo di cose Secondo me Cercare di stabilire Il perché È un problema È un bias cognitivo È un bias di conferma Secondo me è quello Allora è quello No Il mondo è molto più complesso Di quello che ci sembra Quindi O abbiamo i dati Per valutare le cose O le complessità È meglio Non neanche toccarle Tra l'altro Non vorrei dire Che sembra uno Che poi Ecco Però Siamo intorno a luglio Agosto Del 2016 Aneddoto Torino dell'anno scorso Non mi ricordo Quando Che mese Sono andato a vedere La giornata gratuita Di Luca Giusti Con ospiti Marco Viron da Gambin E Enrico Stucchi Tre Così Ciarlatani Personaggini Ecco C'era Lì È il giorno In cui ho conosciuto Di persona Andrea Nebbiolo Sapete cosa mi ha detto Tipo la terza frase In cui parlavamo Ovviamente Abbiamo detto Ciao ciao Poi ci siamo messi a parlare Di trading Mi ha detto L'oro Ha cambiato natura Dall'agosto Del 2016 Ma ditemi Se non è corretta Sta roba Adesso Un pochettino Si sta riprendendo Ma come fa A sapere Ma comunque Va bene Bravo Complimenti Il Nebio Continuiamo Quindi Procediamo Vediamo Vediamo La regolarità Non è bellissima Ma si C'è un Un accenno di recupero Secondo me si può lavorare L'average trade È già molto buono Per un'idea così grezza Drodown alto Le prime cose da fare Sono Ottimizzare Profiti di vola E stop di vola Che viene così No Perdonami Così Ve lo dico io Non ottimizzo Perché 3station Oggi Veramente Ancora un po' Li tirano la testata Viene così Me l'assicuro Quindi Adesso Bisogna mettere Lo stop loss Monetario Perché la massima perdita Qua è 12.000 dollari Allora Come si fa a vedere La massima perdita Queste cose C'è un grafico Bellissimo Che è L'MAE Maximum Adverse Escortion Che cosa fa a vedere Sull'asse delle Ascisse O delle ordinate Ragazzi C'è una confusione Mentale oggi Quella orizzontale Ok Fa vedere Il valore Del trade Quando si è chiuso Quindi le perdite Sull'asse verticale Le perdite positive Cioè Il senso del discorso È Quando c'è un pallino C'è un trade chiuso Questo trade qua Il 424 Quando ha chiuso Ha perso Fino 4.490 dollari E ha chiuso A 1.700 Ok Un altro esempio Che ve l'ho spiegato Un pochino male Colpa mia Questo Il 216 Ha guadagnato 6.620 dollari Dopo un drawdown Di 1.000 dollari Questo Il 499 Ha guadagnato Ha perso Quasi 1.000 dollari Dopo che ne aveva persi 2.340 Questo racconta La storia del trade Questo grafico Serve anche per capire Che un trade Non è che parte Va sempre bene Anzi La maggior parte delle volte Non va bene Per forza Vive Può andare sopra Può andare sotto L'importante È che la logica Dietro ci sia Questo grafico Serve a stabilire Dove mettere Uno stop loss Decente In questo caso Io lo metterei A 3.000 Perché taglia Tutte queste perdite Senza tagliare Troppo i profitti Senza tagliare Troppo i profitti Che è Il compito Dello stop loss Lo metto così Senza ottimizzarlo No Va ottimizzato Vediamo se riesco a farlo Lo metterei a 3.000 Vi ho detto Vediamo se riesco a farlo E 3.000 Mi restituisce 11 Combinazioni A follia Totale Proprio È lenta È lenta Oggi Sono riuscito A far finire la musica No è lenta Comunque 3.000 Posso assicurare Che 3.000 Ecco Forse è partita Che 3.000 È il risultato giusto È lento Madonna mia Quali altre uscite Possiamo testare? Non le scrivo adesso Ve lo lascio magari Come compito A casa Compito a casa Sono maestro L'uscita dopo Totbar È sempre buona Sempre Sempre Cos'è OPP? Open Position Profit Cioè Esco dopo Totbar Se Il trade È in positivo Perché magari Misuro che Statisticamente Dopo Magari perde Cioè Con le uscite A tempo Si misura La vita Media Il comportamento Di un trade Sono molto interessanti Tot Tot Barre Se OPP È minore Di 0 È lo uguale Al contrario Sono praticamente Sempre utili In questo caso Le ho testate E non davano Particolari miglioramenti Ok Guardiamo Lo stop loss C'è un discorso Da fare sullo stop loss Fatemelo fare E non ditemi Che l'avevo Già Detto Grazie Il valore migliore È 500 dollari Che produce Quasi un guadagno Di 250 Mila dollari Perché non prendere questo? Voglio la risposta Forza Ma non siamo in diretta Lo so Peccato Mi stavo prendendo la mano Per scegliere Uno stop loss Che sia Congruente Coerente Con lo strumento Perché Ricordatevi Quello che bisogna fare È costruire Sistemi che siano Coerenti con lo strumento Mi spiace Se non ho pensato così Io la penso così Come si fa quindi? Si calcola Quanto si muove Quel sistema Quello strumento Nel caso dell'oro Ad esempio Fino oggi Oggi ha fatto Si è mosso Di 1200 dollari Ieri di 1300 L'altro ieri Di 3500 dollari Come si fa? Basta calcolare Il range Per il big point value Quindi Quanto si muove Uno strumento Lo si calcola così I Meno low Per BPV Big point value Che per l'oro È 100 Ok Quindi 3000 È sicuramente Più congruente Di 500 Prima di tutto Avete poi Un Backtest Fallato Con 500 dollari Non provate A fare cose Che non vanno bene Se volete provare Uno stop Particolarmente piccolo Per specifici Motivi Stanno d'accordo Va bene Si può provare Consiglio di utilizzare Il 5 minuti Come time frame Per fare un backtest Più adeguato Ne ho parlato nei video Guardatevi tutti i video Qua Che ce ne sono 1550.000 Ora La cosa che a me Andrebbe di fare Andiamo a vedere Il Il performance report È 3000 Lo assicuro Ce l'ho testato Adesso non è che possiamo fare Qua tutti i test Ma Fidatevi Ok Viene così Con queste Perdite qua E un Average Un 2011 Ovviamente Sempre molto buono Perché così funziona Sull'oro E delle buone Performance Ha diminuito un pochettino L'Average Trade Ed è aumentato un pochettino Il Net Profit Bisogna provare I filtri Per quanto riguarda I filtri Anche qua Ne ho già parlato Parecchio in passato Magari Ne approfondiamo Il prossimo video Ma ci possono essere filtri Di qualsiasi tipo Per quanto riguarda I breakout A me piace Cercare una compressione Di volatilità Perché statisticamente Ho visto Che i breakout Sono favoriti Se arrivano Da una compressione Ma ragazzi Io come dico sempre Ma non fidatevi di me Dimmi che sta Registrando Ragazzi Non fidatevi Fidatevi di me Fidatevi di lui Ad esempio Cioè non vado a dire Stucchi Che ne ha già parlato E su Traderpedia Ha già fatto Questi articoli Magari Non vi fidate Gli stucchi Non fa corsi Quindi non è attendibile Ok Facciamo finta Che abbia senso Questa roba Della compressione Pre Breakout L'ha detta lui Quest'uomo qui Larry Williams Chi non conosce Larry Williams Ok Io semplicemente Poi usandola L'ho confermata Tutto qua Oppure Mi piace usare Filtri Di trend In questo caso Decido io Il filtro Che mi va E lo accettate E non si discute Perché Sarebbe troppo lungo Ok È un filtro Estremamente complicato Assurdo Machine learning Avanzato In realtà È un pochettino Asimmetrico Perché chiede Che la open Sia maggiore Della close Quindi che si arrivi Da una barra Verde Che si arrivi Da una barra Rossa Neanche Le candlestick Sai fare Naggia a te Perché Perché è positivo Perché produce risultati Buoni 278 Di average trade 1.39 Sempre un drawdown Alto Ma lo teniamo Per uno specifico motivo Adesso vi spiego E sostanzialmente Il suo compito È vero che ammazza Abbastanza 2011 Ma il suo compito È migliorare Questa parte qua Perché Secondo me Perché Migliora La parte Che più ha sofferto È overfitting Non è overfitting Fate quello che volete Non lo so Secondo me no Lo traderei così È un filtro Molto semplice Si possono valutare Gli intorni anche Su questo tipo di filtro Ma ne parliamo Magari un'altra volta Lo salverei così Ed è quello che ho fatto Mi piace Non mi piace Non lo so Sicuramente Ha I requisiti Per Essere tradato Con i micro Dov'è? Qua Per essere tradato Con i micro Ok Average trade Capiente Tra l'altro Ha Un filtro Un'uscita Uno stop Direi che è abbastanza Accettabile Se mi posso permettere Vogliamo provare al volo Ma veramente Sto Sto improvvisando Un filtro uguale Contrario A quello messo Sull'SP Se non sbaglio Cioè di compressione Sulla TR Non l'ho testato Questo prima Non è male La compressione Funziona Possiamo anche Decidere di tenere Questo Non è un problema Cioè È un problema Perché ho già Sportato l'equity Ma Va bene Ok Ok Sono curioso Allora Incuriosiamoci tutti Non so cosa voglia dire Deve essere un gran ciporro Mi diverto con poco Cosa devo dire Ottimizziamo Ottimizziamo Perché ci vuole di scoprire Se Se può andare bene Un filtro così Facciamo La gamba corta Da 2 a 10 E da 10 a 30 Al volo Tanto ci metterà Comunque un po' Quindi Non so se vi ricordate Il drawdown Di prima Del sistema Che io ho considerato Accettabile Era 24 mila dollari Ok Ampio Sicuramente Ok Quasi finito Quindi prima Risolviamo questo problema E poi andiamo a vedere Che cosa succede Pazzesca la lentezza Di sta roba Comunque Ogni tanto 3station è Pazzesca Sta registrando Molto bene Siamo a 26 minuti Ma è lunghissimo Quanto ci ho messo A questo punto conviene fare direttamente le live Dai Fammi vedere Cosa viene Ok Grazie Ma guarda che 620 anche Non è male Non ho messo Robustness Index Questo lo considererei Anche migliore Questo è un filtro Anche migliore Tra l'altro avete visto Gli intorni Che sono sempre buoni In qualsiasi caso Comunque Io ho l'altro E ho l'altro Per uno specifico motivo Intanto io regalo Codice così E mi chiedo Se ha senso Arriverà al senso Quindi Andiamo a vedere Questo primo porta Foglietto Fatto da ES ES Reversal NQ BO E GC BO Ok Lo andiamo a Prendere da qua E le ho già selezionate Perché ce ne ho altri Che in altre cose Sono GC ES E NQ Notiamo Che Il Max Drawdown Questo caso è più piccolo Perché Per altri Altri fattori Comunque Come viene l'aggregato A parte che ha un massimo Di 27k Che non è poco Ma ricordiamoci Che era 26 Sul Sull'oro E tra l'altro Una quindicina di media Sugli altri Quindi al posto di sommarli Un portafoglio Li smorza Non è ancora Il portafoglio migliore del mondo Siamo d'accordo Con calma però Lo componiamo Pezzo dopo pezzo Gamba dopo gamba Andiamo dal 2008 Che Almeno abbiamo una visione Perfetta Ok Era già dal 2008 Oh velocissimo Questo programmino Questo è l'oro Ovviamente Perché fa molto di più E gli altri Vediamo come si sono comportati Il performance report Dice 27 Di Max Drawdown Lo spavento Di 30 dollari A trade Il 40.000 dollari Di slippage Pagato 21.000 dollari Di max Margin Di max Poi possiamo vedere I vari grafici Vabbè E quello che volevo vedere io Era come era andata Nel 2018 Non clamorosamente bene Ma comunque positivo Comunque positivo L'anno peggiore L'anno peggiore Inficiato sicuramente Dalla performance Degli indici Però quest'anno Ha fatto Sfracelli Complimenti E le correlazioni C'è tutto un discorso A fare sulle correlazioni Tutta la mia idea Va bene Ci arriveremo Il senso è Brevemente Poi vi guardate Il video di nuovo NQ Su NQ È correlato ovviamente 1 a 1 Chiaro NQ e GC La correlazione Del sistema proprio È Meno 0.044 Eccetera È una misura Incompleta Perché dal tutto Con calma ci arriviamo Comunque Bene o male Sul lungo periodo Sono poco correlati E SNQ Sono correlati Quasi a 0.3 Ok Su tutte cose Da tenere a mente Per quanto riguarda Un portafoglio La prossima settimana Vi porto Delle analisi diverse E arriviamo al bias Spero che il video Vi sia piaciuto Ah ok Vi devo assolutamente dire Mi spiace Essere arrivato qua Ma Domani sono All'evento Cutilaba Milano L'ho Saputo Ieri in realtà Potevo dirlo prima Mi spiace Ok Sono qua Luca Giusti E Maurizio Mazziero A Milano E venite Moltissimi Perché ci sarà Da divertirsi Ed è Pa 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 Allo Scandinavia Ok La zona è anche bellina Qua c'è il Corso Sempione Non è male Pochi posti disponibili ancora Su un milione C'è una sala enorme Sarà Quindi venite Che mi offrite il caffè È necessario Cos'altro dovevo dire La diretta Di martedì Ho deciso Il tema Sarà La statistica Come valutare Come backtestare Come valutare La statistica Non lo so Devo trovare il titolo La statistica Sugli spread stagionali Martedì Vent E trenta Su Facebook Diretta Sulla Statistica Ah dovevo dire Una roba Si raccomandati Qua No vabbè Pazienza Dai pazienza Ho visto dei video Online Ragazzi Ok Dai Spero che questo video Vi sia piaciuto Se siete arrivati Fin qua È necessario È fondamentale Incredibilmente fondamentale Per la mia autostima Visto che devo compensare Il fatto che adesso L'immagine è molto più piccola Di me Che forse è qua Perché è più piccola Non lo so Dovete assolutamente Commentare Con gran ciporro Grazie a tutti Grazie a tutti